Un saluto ben ritrovati da Fabio, dall'io di Trebi Meteo. Nella giornata di sabato la circolazione di bassa pressione sul Mediterraneo tenderà ad approfondirsi ulteriormente a seguito dell'afflusso di aria artica che continuerà ad alimentare questa circolazione di bassa pressione, determinando condizioni di maltempo soprattutto al sud e su parte del medio adriatico. Vediamo più nel dettaglio la mappa della nuvolosità che ci mostra appunto le regioni del sud interessate da molta nuvolosità proprio legate a questa situazione di maltempo ma anche le regioni del centro, tempo invece che sarà migliore al nord e sulla Toscana. Vediamo più nel dettaglio la giornata di sabato sull'Italia che appunto sarà dominata dalla pioggia soprattutto sulle regioni meridionali su gran parte del centro. Piogge rovesci ma anche nevicate a bassa quota infatti sull'Appennino nevicherà fin verso i 6-700 metri di quota al sud ma anche più in basso al centro così come poi la tendenza per questi fenomeni che tenderanno in serata ad estendersi verso l'Emilia Romagna con fiocchi di neve che solo a dorsale emiliana potranno raggiungere anche quote di fondo valle. Il tempo sarà migliore sul resto del nord e la Toscana con ampie zone di sereno. Apre ulteriori dettagli e scaricate l'app gratuita di 3b Meteo.